Il prossimo si intitola Lucky Ones, 32 tempi, due muri, no text e no restarts. Il peso è, coreografi siamo io e Mr. Piro. 7, 8, punta, tacco, coaster, step, kick, kick, coaster, step. Shuffle, step, step, spin, shuffle, step, step, touch. 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, su, 5, 6, 7, 8. Punta e punta e punta, kick, coaster, step, step, touch. Shuffle, back, shuffle, step, passo, giro, step, step. 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sette, otto, punta, attacco, coaster, step, kick, kick, coaster, step, shuffle, step, step, spin, shuffle, step, step, touch, punta e punta e punta, kick, coaster, step, step, touch, shuffle, step, shuffle, turn, passo, giro, step, step. Sette, otto, uno, due, tre, e quattro, cinque, sei, sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, uno, due, tre, e quattro, cinque, sei, sette, otto, uno, due, tre, e quattro, cinque, sei, sette, otto. Gli ultimi due passi li potete sostituire con due pivoti mezzo giro, quindi passo, giro, 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 punto, tacco. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!